Salve a tutti e benvenuti su All Pizzetv, al fuori tanto proprio viene pure tu su All Pizzetv, andiamo con un'altra piccola canzoncina dal titolo Pazzerello. Vado, uno, due, tre. Siamo nel mese strano Pazzerello, ma per noi il problema rimane da un anno a questa parte, sempre quello. Non si vede il punto di uscita, ma chi deve avere, chissà, se la storia l'ha veramente mai capita. Non ti puoi fidare più di niente e nessuno. Chi la racconta cotta, chi cruda, è da un anno senza risultato di chi che sia, ma scusate, c'è qualcuno. Solo un vero miracolo può salvarci tutti quanti, altrimenti costo greggio di comandanti. Alla fine un popolo si spera di ritornare di veri e onesti giganti. Siamo nel mese strano Pazzerello, ma per noi il problema rimane da un anno a questa parte, sempre quello. Non si vede il punto di uscita, ma chi deve avere, chissà, se la storia l'ha veramente mai capita. Non ti puoi fidare più di niente e nessuno. Chi la racconta cotta, chi cruda, è da un anno senza risultato di chi che sia, tocca, 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 scusate, ma c'è qualcuno. All Le Pizzi di Voo, all for you, tanto prima o poi vi rafforato, fuori giù amare stata ferma, ma quando vai cavallone giganti per tutti quanti. Con questo vi saluto e vi rimando alle prossime, e come sempre, All Le Pizzi di Voo, all for you, tanto prima o poi vi rafforato, arrivederci.